Mi chiamo Giovanni Cacioli, lavoro nel centro dell'informatica da tantissimi anni, ormai dal 1987, ho lavorato presso uno dei primi Apple Center italiani e quindi posso dire che la tecnologia mi accompagna fin dall'inizio della mia attività professionale. In Tecno Sistemi mi occupo di migliorare le vendite nei confronti della pubblica amministrazione e questo avviene tramite l'utilizzo di un portale dedicato che si chiama MEPA. Il MEPA è il mercato elettronico della pubblica amministrazione, un insieme di strumenti che permettono ai punti ordinati della pubblica amministrazione di acquistare beni e servizi. Recentemente abbiamo realizzato un portale, un sito web completamente dedicato e a supporto delle nostre attività di vendita del MEPA, che è l'utilizzo PA.tecno-sistemi.com, dove i punti ordinati possono trovare schede tecniche molto dettagliate dei prodotti in vendita e conoscere meglio Tecno Sistemi, in particolare la capacità di Tecno Sistemi di proporre soluzioni digitali nei confronti della pubblica amministrazione. La mia grande passione è il cinema. Il cinema mi ha sempre divertito, vado sempre volentieri a vedere un film. Tra l'altro è una passione che condivido con i miei tre fratelli e quindi non ho mai il problema di avere qualcuno con cui andare a vedere un bel film. Io penso che la tecnologia umana sia la possibilità di utilizzare strumenti e tecnologie, non necessariamente informatiche, per permettere agli individui di esprimersi al meglio. Questo per me è la tecnologia umana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.